In questo video, selfie d'autore o autoritratto come si chiamava una volta, vediamo come dare un sapore un po' artistico a una fotografia di noi stessi, che possiamo utilizzare anche per fare dei ritratti ad altre persone. Benvenuti su non solo Photoshop, canale che si dedica da anni alla produzione di tutorial di qualità, ma creativi per fotografia e per Photoshop. Sono Luciano Boschetti, fotografo professionista, vero professionista, che trasmette a voi tutto ciò che conosce, o quasi. In questo video vediamo come fare una fotografia di noi stessi, il classico denominato selfie o autoritratto come si chiamava una volta, in una situazione, in questa stessa situazione in cui mi state vedendo, in questa ambientazione che naturalmente non dovete ricreare voi stessi, ma potete imitare quello che vi sto spiegando. Sono piccoli suggerimenti che possono fare la differenza per ottenere una fotografia che si fa notare. Naturalmente il soggetto non è un modello e dobbiamo accontentarsi di quel che salta fuori. Quindi, in questo stesso ambiente, cosa faccio? Vado a spegnere quelle luci che sono di troppo per la realizzazione di questa foto. Io ho qua ne ho due orientate verso di me, una a sinistra e una a destra, quindi le spegniamo, anzi le spengo. Probabilmente adesso abbiamo una situazione non proprio proprio ideale come illuminazione e come qualità del video, probabile che faccia anche fatica a mettere a fuoco. Quello che utilizzerò come fonte principale, quindi sul mio viso, sarà il telefono, dove vado a spuntarmi la torcia che ormai tutti i telefoni hanno. Prendo una rivista, naturalmente, che si adatta a quello che è il mio tema, a quello che è il mio tema. E cosa faccio? Apro, inserisco all'interno il telefono che farà da fonte di luce, vediamo come illumina il mio viso e dove posso, naturalmente, giostrarmi sulla distanza per rendere più o meno intenso l'effetto della luce. Posso alzare per avere meno ombre in questa posizione, ma considerate che questa situazione vuole arrivare a ottenere, vuole diventare una fotografia particolare, una fotografia d'atmosfera. Ecco che questa luce un po' teatrale ci sta. Ci sta inserita qua dentro perché mi aiuta la rivista a coprire la fonte di luce, quindi ecco che me la giostro per trovare l'illuminazione ideale e, una volta azzeccata la mia posizione, magari un pochettino decentrata, per bilanciarmi con la parte di là, nella parte di là ho lasciato soltanto un faretto colorato orientato verso quella veneziana, quella porta con veneziana, che contribuisce a compensare questa differenza di luce. Mi allontano un po' perché si veda un po' di più la rivista e naturalmente con il mio sorriso accattivante, oppla, è caduto, otterremo, anzi arriverò al risultato che avete visto in precedenza. Eccoci ritornati alla situazione precedente. L'invito è quello di provare, di giocare, di trovare soluzioni alternative a quella che è il semplice scatto, una situazione in cui ci si trova, con l'ambientazione magari non adatta, con uno sfondo dietro che non è gradevole, basta poco a volte per ottenere risultati di un certo livello. Vi ricordo tantissimi tutorial già esistenti in questo mio canale dedicato alla fotografia creativa, a Photoshop creativo e naturalmente linkato in descrizione. Il vostro vi piace se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Esiste dal 2008. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.